Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Carlotta e oggi nuovo video haul e sarà un video haul di Cider, che è un brand che non abbiamo mai provato sul canale ma prima di cominciare volevo dirvi che abbiamo anche una nuova sigla da oggi quindi 3, 2, 1, sigla! Fatemi sapere qua sotto se questa nuova sigla vi è piaciuta e adesso andiamo ad aprire il pacchetto che non vedo l'ora prima di cominciare volevo dirvi che ho anche un codice sconto per questo brand anche se ancora non sappiamo cosa ne penso ma in ogni caso ve lo lascio scritto sia qua che sotto nelle info box quindi andiamo finalmente ad aprire il pacchetto e raga ci sono un sacco di vestiti, un sacco tra l'altro devo dire brava me che di nero per ora non vedo praticamente nulla quindi brava, brava Carlotta e distraiamo il primo pacchettino allora innanzitutto top cioè mi piace un sacco anche come sono stati imbussati la qualità delle buste io sono una cartopazza in realtà quindi ho preso una taglia M di questo maglioncino stile college che non ne avevo neanche uno ma ultimamente mi stanno piacendo un sacco quindi andiamola a provare partiamo col botto allora questo maglioncino mi piace tantissimo è super caldo, bello morbido io ho deciso di metterlo sopra al mio maglioncino a collo alto ma ovviamente potete indossarlo anche senza sotto niente ma oggi volevo provare a indossarlo così ogni tanto cambio, provo outfit diversi infatti se ancora non mi seguite su Instagram andatemi a seguire subito perché lì vi mostro tantissime idee outfit e non ve l'ho detto ma ovviamente se non siete ancora iscritti al canale fatelo subito il bottoncino è qua ed è totalmente gratuito quindi se vi va di supportarmi grazie andiamo a pescare un'altra cosina cosa abbiamo qua? raga le buste sono davvero di una plastica top adoro cos'è? uh è una gonnellina super leggera ho paura che si veda sotto non so se si ha le luci puntate però strano perché ha anche la doppia doppia come si chiama? oh oh il doppio tessuto partiamo benissimo questo video comunque andiamola a provare anche questa in taglia M allora questa gonna per me è no nel senso che la forma mi piace anche che mi piace come mi sta addosso che poi in realtà è un pantaloncino perché sotto ha il suo pantaloncino ma il tessuto è veramente troppo leggero cioè si vede veramente veramente tutto tutto quindi credo che si possa utilizzare magari per andare in spiaggia d'estate con sopra un top così ma per andarci in giro in questa stagione cioè o ci mettete un blazer comunque poi non potete toglierlo cioè diventa un po' complicato secondo me quindi mi spiace ma questa per me è no altra bussina qua abbiamo una cosina pua Carlotta cosa stai facendo? allora taglia M e anche qui abbiamo un vestitino a manica lunga sembra un sacco carino con uno scollo a via davanti super leggero e morbido infatti credo che per i giorni dove fa un po' più caldo va bene ma andando verso l'inverno sotto ci metto una bella canottiera una bella calza spessa e sopra un maglioncione altrimenti è un pochino leggerino come materiale tenetene conto allora il vestitino è leggerino come vi dicevo ma fatto veramente bene di lato ha la sua cernierina che è fatta apposta per poi segnare bene il punto vita e mi piace un sacco io ho scelto una taglia M l'interno delle maniche come vedete ha tutti questi pua perché avendo la manichina larga quando parlate con la gente gesticolate o cose vedete che non c'è il sottotessuto brutto per dire come quello che c'è qua che tanto qua non si vede ma hanno pensato di coprirlo quindi secondo me è un'attenzione che mi è piaciuta molto l'abito ha una struttura bellissima nasconde bene la pancia quindi questo top poi peschiamo un'altra cosina questo mi sembra un materiale un pochino più consistente adatto all'autunno vediamo vediamo ok ho due pezzi questo l'ho scelto perché vanno di moda i completi in maglia io non ne avevo neanche uno molto carino con appunto questo disegno che ricorda un po' un corpetto anche se in realtà è morbido quindi non abbiamo sostegno e la parte sotto è una gonnellina super semplice marroncina questo l'ho pensato sì per uscire ma soprattutto per quando magari arriva gente a casa che adesso è inverno ci chiudiamo un pochino di più in casa magari invitiamo gli amici e non voglio essere in pigiama questo completino per stare in casa mi piace un sacco unica pecca fa venire la pancia ma già lo sapevo perché essendo totalmente così in maglia morbida è logico ma tanto chi viene a casa mia lo sa che ho la pancia ormai lo sapete voi lo sa tutto il mondo quindi chi se ne frega però è veramente carino mi piace tantissimo mi piace il particolare del decolleté così forse avevo preso una taglia in più perché di spalle mi sta leggermente stretto io ho preso una M sia sopra che sotto ma indubbiamente se tolgo il reggiseno rinforzato mi va giusto perché comunque ruba un po' di tessuto però devo dire è molto bello anche dietro è super morbido cioè mi vedo proprio come una casalinga sexy ecco con questo completino poi cosa c'è no raga adoro mi hanno regalato degli stickers sono pazzeschi ma che belli io ho super contenta questi li mettiamo subito lì e andiamo ad aprire quest'altro maglioncino ok allora ammetto che sono scema io mi sa non mi sono accorta che sul davanti c'erano delle conchiglie ma nonostante questo nonostante le conchiglie ricordano un pochino il mare il tessuto è non super leggerissimo quindi ci sta da utilizzare anche sotto un blazer sotto una giacca non male allora questo maglioncino rispetto a quello di prima non è così morbidoso mi dà un pochino fastidio non mi prude ma mi mi gratta mi graffia il tessuto praticamente ma non lo riuscirete mai a percepire da qua non è una cosa particolarmente fastidiosa cioè se ci esco dopo due minuti me ne dimentico sicuramente però quello di prima era molto più morbido però devo dire che anche abbinato a questa gonna qua mi piace molto quindi questo è un capo che utilizzerei sia per uscire sia per restare in casa l'unica cosa appunto che mi turba sono le conchigliette perché lo fanno sembrare molto più estivo quindi nel dubbio lo utilizzerò magari in casa adesso in estate la sera fuori però il colore mi piace un sacco mi piace il modello quindi top altro pacchettino avete visto che sto cercando di utilizzare di più i toni del marrone anche perché devo dire che effettivamente mi sto trovando bene non l'avrei mai pensato di dire nella vita e qua cosa abbiamo credo che sia un vestitino si aspettate che cerco di metterlo dritto ok allora il vestito dovrebbe essere più o meno giusto così alla schiena scoperta quindi sarebbe da portare o senza reggiseno o con le coppe ma oggi sicuramente lo proveremo con reggiseno normale dietro anche l'elastichino quindi andiamola a provare che forse è meglio perché le mie descrizioni questo abito non è facile da mostrare questo è un abitino della serie oh amo S sera sobria sì sì amo non preoccuparti ecco io esco così allora è veramente bello ora non ho messo sotto le coppe sicuramente se esco le metterò dietro la schiena è totalmente nuda a parte appunto qua per tenere su la parte sopra del vestito ovviamente mi piace tantissimo mi piace che qua sia drappeggiato vabbè oggi a pupace è solito ciclo appena finito di mangiare però normalmente secondo me questo copre abbastanza bene perché anche adesso non si nota più di tanto qua va giù bello cioè mi piace è proprio un abitino di quelli che mi piace mi piace il colore non dico che lo metterei a capodanno perché non so dove sarò ma se fosse al caldo potrebbe essere un'idea nonostante non sia rosso ma chi se ne frega solitamente mi dimentico sempre di vestirmi di rosso a capodanno quindi vabbè e niente questo mi piace fatemi sapere anche cosa ne pensate voi ma mi piace qui davanti mi piace il laterale mi piace top niente da dire siamo arrivati all'ultima cosina questa super autunnale barra invernale e se è come credo lo utilizzerò un sacco anche sotto le feste perché ho scelto questo vestitino in questo velluto rosso cioè è veramente veramente bello lo scollo un po' a cuore così a me fa sempre impazzire super bello il materiale sembra buono bello morbidoso quindi andiamo a provare anche l'ultimo vestito di questo haul avete presente cosa vi ho detto prima mentre indossavo l'abito marrone ecco eliminatelo perché metterò questo a capodanno quindi quello lo metteremo in altre serate ma questo a capodanno è molto molto bello in questo rosso in velluto con uno scollo a cuore pazzesco secondo me questa è la scollatura che valorizza di più il fisico come il mio mi piace questo simil corpetto perché qua voi avete visto le cuciture ma non hanno all'interno stack quindi è morbidissimo come materiale la gonna è fatta molto bene si incrocia qui qui ha tutti dei drappeggi che nascondono la pancia come sempre sapete che mi piace tantissimo besse molto bene anche dietro abbastanza aderente segue bene la figura senza sottolineare ad esempio qua ho un buco che si vede abbastanza ma non si nota particolarmente con questo vestito quindi anche questo per me è approvato sono felicissima eccoci arrivati alle conclusioni finali io rimango nel mio abito super top rosso di velluto e devo dire che questo brand mi è piaciuto mi sono piaciute soprattutto le linee degli abiti sono fatti molto bene i capi vestono molto molto bene i tessuti sono abbastanza buoni non sono top del top ma per il prezzo che hanno sicuramente sono buoni a parte la gonna che non mi è piaciuta per niente la maglia con le conchiglie che sul tessuto sni potevano fare un pochino meglio per il resto tutto top fatemi sapere quali sono i vostri capi preferiti i miei sono praticamente tutti ma soprattutto gli ultimi due vestiti e il primo cardigan io adoro alla collia vi ricordo che ho un codice sconto e ve lo lascio scritto qua sotto e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video ciao ciao